Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla formazione, benvenuti, benvenuti a tutti. Eccoci, come va? Tutto bene? Siete pronti a un'altra maratona straordinaria? Benvenuto a Dottor Marcus, ciao Mike, benvenuto a Nicola, benvenuto a Nuri, ciao Beppe, ciao a tutti. Allora, sarà un'altra importantissima serata di condivisione, quella che andremo ad affrontare. Ciao Giuseppe, Napoli, e voglio solamente evidenziare due o tre cose, poi passerò subito la parola a Marcus. Volevo farvi vedere un aspetto importante, alcuni mi hanno chiesto, puoi magari parlare di questo. Vi dico che dovete controllare, sarebbe una bella cosa, non so se l'avete fatto tutti, controllare se, da manutenzione, la cartella backup automatico, la cartella, vedete qui, backup automatico, è fleggata e avete creato la cartella archivio dell'S Drive. Vedete, qui c'è selezione alla destinazione, voi da qui andate a cercare la cartella, andate su Desktop, crea nuova cartella e vi dovete accertare, ok, naturalmente, accertare che qui lui poi abbia preso la cartella dove andrete a archiviare tutti i test che fate. Basterà fregare questo quadratino e farà tutte le volte che chiudete il backup automatico. Se non l'avete fatto, chiedete ai vostri, insomma, anche responsabili di zona, oppure chiedeteci se è un problema, vi aiuteremo a farlo. Backup automatico sul vostro computer, quindi manutenzione, andate qui, seleziona la destinazione e potete creare la cartella archivio. Un altro aspetto importante, quindi quello sulla cartella archivio, mi raccomando, se no perdete tutti i dati, poi ogni tanto metteteveli su una pennetta, perché se il computer si fonde, almeno avete tutti i test nella pennetta. Ogni tanto fate un archivio, archiviatelo in una pennetta o in una memoria, quello che volete, o sulla nuvola, sul cloud. Altra cosa che mi hanno chiesto, come si fa a ordinare? Vedete in alto c'è ordine, potete controllare il vostro stock, basta cliccare controllo il vostro stock e qui sulla destra avete tutti i vostri test che vi rimangono secondo il test che avete acquistato. Come potete fare per acquistarli? Ordina prodotti, vi manda sul sito naturalmente vostro, il vostro dashboard. Ricordatevi, adesso faccio interrompi navigazione, vi faccio vedere questa che è importante. Quando voi siete qui, basta andare su ordini, qui c'è ordini, ricariche, ordini, ricariche e scegliete il pacchetto e i test che volete comprare. Ci sono i vari pacchetti, volete provarne tre di un test che non avete, andate in fondo, potete acquistare tre dei bambini, tre anche cani, gatti, quello che volete. Anche quello sulla gestione dell'età, estetica, sul capello, volete provare quello sportivo, potete farlo anche, acquistarne un minimo di tre. Oppure i pacchetti, non sbagliate, umunità e benessere, cercate quello che naturalmente usate, voi usate sempre quello umunità e benessere o metabolomica, chiaro. Quindi potete 10 più 1, 20 più 3, 40 più 7, 80 più 16. Ricordatevi di andare su ordini, ricariche, su ricariche. Se avete dei problemi, ricordatevi che qui, dentro a questo sito, ci accedete mettendo la vostra email dell'account che avete creato e la password che avete creato voi nella fase dell'installazione. Se non ve la ricordate, basta andare a fare, ho dimenticato la password, rinserite la vostra email, questa vi arriva sulla vostra email, sette un new password, ne inventate un'altra e accedete con la nuova email. E siete nel vostro dashboard dove potete acquistare, potete scaricare il nuovo programma se volete reinstallarlo su un altro computer. E questo è quello che mi sento di darvi come dritta, perché a volte magari si va in difficoltà ed è giusto avere anche queste informazioni. Detto questo, se vi fa piacere, stasera proprio ci immergiamo sull'interpretazione, subito, senza nessun tipo di premessa, se non quella di dirvi questo. Allora, io dopo questi sei, sette anni ormai di esperienza con la tecnologia S-Drive, mi sento di dire e di affermare che abbiamo veramente uno dei test più straordinari per un supporto clinico integrato, ma anche per la prevenzione che io abbia mai visto a livello mondiale. Ne ho la certezza per la clinica, i casi clinici che stanno venendo fuori, ma anche per la mole di informazioni che noi possiamo avere da questo straordinario strumento. La mole di informazioni che ci dà questo straordinario strumento sono, ricordatevelo sempre, pari a più di 800 marcatori chiave di fattori epigenetici di interferenza o di supporto a livello cellulare. Non sostituisce, come ci dice sempre Marcus, nessun test, ma senza questo noi non potremo arrivare alle cause dei problemi. La scorsa volta ho presentato proprio tutto il discorso della metabolomica straordinaria, che costa veramente parecchio, ma per avere un profilo di metabolomica completo di tutti i metaboliti, come ci ha insegnato anche e ci insegna il professor Fanus, che tra l'altro incontrerò proprio domani, e dice sì, tutto bello, ma i metaboliti da cercare sono veramente tanti. E poi le cause dello stress ossidativo qual è? È solo la capacità antiossidante dell'organismo? Come sappiamo e come abbiamo visto in questi corsi, in questa formazione, lo stress ossidativo, i danni da campi elettromagnetici, i danni che danneggiano i mitocondri, il danno da metalli pesanti, idrocarburi, le sostanze chimiche. Ecco, io penso che se non arriviamo a avere questa visione, questa consapevolezza di veramente di quello che abbiamo in mano, e poi non si riesce, se qualcuno ha, ah no, ok, non si riesce poi a avere un quadro completo della situazione. Altro aspetto di cui volevo, altra cosa di cui a volte penso è, ma quanto dovrebbe essere fatto pagare un test che ci permette di avere così tante informazioni? che valore aggiunto stiamo dando al vostro, al vostro paziente, al vostro cliente con un test del genere? E penso che a livello europeo il test lo fanno pagare una media di 250 euro. Ci sono dei centri dove lo pagano anche 500 euro, pensate. Adesso, dico, ma quanto va il vostro tempo, quant'è la vostra professionalità, e quanto veramente questo test può fare la differenza? Questo test è un investimento che fa risparmiare denaro perché vai poi a fare dei test mirati, perché non si istituisce naturalmente nessun altro test, ma almeno ti indirizza per capire e per approfondire. E penso che un test del genere, con un valore aggiunto del genere, con l'informazione che abbiamo, debba anche essere fatto, voglio dire, pagare il valore che vale. Ed è giusto così, perché la vostra professionalità va. Quindi, detto questo, penso che sia arrivato il momento di passare la parola a Marcus Stanton e a Mike Andolfo. Eccoci qua. Mike, sei in linea? Grazie, io sono in linea, grazie. Thank you, Marcus. Thank you, Mike. Grazie, Marcus, per il tuo prezioso supporto. Grazie. Absolutely. You have the floor. Ok, so thank you so much for doing the introductions, Giorgio. Grazie per queste introduzioni, presentazioni, Giorgio. And since you have a stiff program to do tomorrow, probably you cannot join us as long as you would today. E poiché domani avrai sicuramente una giornata lunga, visto che vai in Sardegna, magari lascerai questa conferenza prima della fine. Ok. Thank you, grazie, perché io domani mattina alle 4 mi alzo alle 6, parto dall'aeroporto, sono in un hotel qui vicino a Pisa, perché domani sono a Cagliari, però l'aereo è alle 6, quindi alle 5 devo essere in aeroporto. Thank you very much. I have to wake up at 4 tomorrow morning because my flight is at 6, I have to be at 5 at the airport. I'm now in a hotel near Pisa, near the airport, so I'll be leaving tomorrow morning very early. Ok, well, our hopes and wishes are with you and say a heartly welcome to the island of Antonio. Ebbene, buon viaggio, buon lavoro e porta i nostri saluti all'isola di Antonio. Grazie, grazie di cuore. Ok. Thank you. Vedrò anche la professoressa Feno e andremo insieme dal professor Franus. I'm going to be meeting up with Dr. Feno, who is a lady, and we shall be going together to meet Dr. Fauno. That's very nice. Ok, good. So, all the best to you and tonight we're going to go through the different cases. Bene. Buonasera quindi a tutti. Grazie a Giorgio e questa sera noi esamineremo alcuni casi. So, as you might have noticed, again, I'm still calling you from the Canary Islands. Avrete notato dallo sfondo che, come la settimana scorsa, mi trovo ancora alle Canarie e vi parlo da qui. The beach is behind me, although you can't see it now because it's already dark. Dietro di me c'è la spiaggia, non la vedete perché ormai è buio. And I'm lucky that I can be out here because we had a pretty impressive storm today, but that's over now. Sono molto lieto e fortunato del fatto che sono qui a parlarvi da fuori dal terrazzo perché oggi c'è stato un temporale, ma per fortuna adesso è finito. So, Giorgio Giorgio had provided specific cases today to go through. Ebbene, Giorgio ci ha fornito dei casi specifici da visitare, da illustrare questa sera. And I would like to start with the first one. E vorrei partire appunto dal primo. And maybe, Mike, you can refer without the name, you can refer to the first case, maybe read the text that's given me. Ok. Quindi adesso io leggerò questo caso, ve lo presento. Si tratta di una persona di 22 anni, affetto da colite ulcerosa, diagnosticata nel 2014, con comparsa di acne pustolosa nel 2016. Attualmente in terapia con biologici, Infliximab, e ne ha provati tre. E questo è quello meglio tollerato. C'è stata la comparsa di Pioderma gangrenoso nel 2021. Segue poi una dieta di segnale con rotazione per latticini, lieviti, frumento e nickel, cioè lievita 4-5 giorni a settimana. Attualmente la coloti è sotto controllo, forse la colite è sotto controllo ed ha anche il Pioderma gangrenoso. È in fase di miglioramento. Quindi un anno fa c'è stato un ricovero ospedaliero per la grave situazione clinica del Pioderma gangrenoso. in passato ha avuto somministrati cortisonici a dosi elevate ed attualmente mesalazina 2,4 grammi al giorno. peso 54 kg altezza 170 cm 1,70 m ok so this is a basic description of the current situation. Quindi questa è stata questa è la descrizione se vogliamo di base dell'attuale situazione. quindi nel 2014 è stata fatta la diagnosi primaria con colite ulcerosa. e poi più tardi è appunto apparso il Pioderma gangrenoso. Now the point is normally someone would have a certain diagnosis and would be treated for that diagnosis. Ora normalmente si fa una diagnosi e poi si fa una terapia per il trattamento di quella diagnosi. The point here actually is to look behind the scenes what has happened to lead towards the situation. Quello che facciamo qui invece è quello di guardare dietro la scena per vedere che cos'è che ha generato quello che adesso riscontriamo. And what's interesting all these aspects normally are never mentioned in the anamnesis. Allora quello che è interessante qui è che tutte queste cose o questo aspetto questo approccio non viene mai né fatto né vengono citate in fasi di anamnesi. Which means that the colitis ulcerosa as such is obviously an immune disbalance. Chiaramente è dovuta o presenta anche uno squilibrio what kind of imbalance sorry immune disbalance immunitario. Now the point is instead of saying oh we have to treat the gut now the first question should actually be what has led to the situation. So anziché dire è chiaro dobbiamo a questo punto fare una terapia per l'intestino e invece no la prima cosa da fare è farsi la domanda che cos'è che ha condotto questa situazione a questo stato qual è la causa e lo stesso vale per il Pioderma perché chiaramente è una sequela di qualcosa o quello che c'è stato prima della comparsa del Pioderma gangrenoso. So in certain cases of Colitis ulcerosa such a Pioderma can appear yes ebbene in talunni casi di colite ulcerosa si sa che può comparire anche il Pioderma gangrenoso and the point is now not to ask ok how do we treat the skin yes the skin needs to be treated but it's important to look again at the originating factors quindi anche qui come in quello che dicevo prima si tratta solo di dire bene adesso come possiamo trattare l'aspetto dermatologico si tratta invece di andare a vederne la causa and I would like to show you some photos of the Pioderma now adesso vi mostrerò delle immagini delle foto del Pioderma and and I have to warn you those are very explicit photos vi devo fare però un avvertimento e un caveat sono fotografie molto esplicite meaning you don't need to see them in order to follow the story but this is heavy stuff come dire non è necessario che voi teniate gli occhi aperti per osservare queste foto potrete comunque seguire la storia che racconterò senza guardare le foto e vi sto facendo questo avvertimento perché sono delle immagini veramente molto molto particolari so I will now start showing the photos and I will tell you verbally when it's over then you can look again quindi per chi non volesse vedere le foto io comincio adesso le mostro comincio a raccontare la storia e poi vi dirò quando ho finito così potete aprire gli occhi coloro che non avranno voluto vedere le foto so here so I will start showing the pictures now quindi parto con le immagini ok you see that the inflammation and the damage on the skin is is very severe vedete che è molto grave sia l'infiammazione che il danno sulla cute and due to the inflammation also scars and scar tissue has appeared a causa dell'infiammazione il risultato sono tessuti cicatriziali e so depending on the region we look at of the body there are different ulcerations in base alle diverse zone del corpo vedete che le ulcerazioni cambiano ok so you have a you have a rough impression of how severe this is for the patient ok now you can look again that the photos are gone now now you have understood that I preach I shouldn't say preach but I don't know any word talk about looking at the causes of something while you're diagnosing allora chi mi conosce sa benissimo che io parlo appunto delle cause andare alla ricerca delle cause le fonti and just to say oh that runs in the family because we will also talk about another family case in his thing but just to say oh that runs in the family makes things too easy e dire che è qualcosa di ereditario oppure che è qualcosa che si manifesta nella famiglia è troppo facile troppo facile the point is here that certain causes maybe also genetics but certain causes have led to escalate the situation allora ci sono sicuramente delle cause che hanno portato all'escalation di questa situazione ci può essere una componente genetica certamente però ci saranno e ci sono altre cause che hanno portato a questa situazione and before we dive into the s-drive report let me give you a little bit of a framework allora prima di andare ad esaminare il report dell's-drive vi do un quadro di riferimento as i always say the intestinal wall especially that of the small intestine is the biggest immune surface we have in the body Allora come dico spesso la parete dell'intestino tenue in particolare l'intestino tenue è il risottore è il componente più importante dal punto di vista immunologico food and everything we ingest is alien is foreign is not ours il cibo che consumiamo tutto quello che ingeriamo è alieno al nostro organismo deve essere fermentato deve modificarsi in maniera da poterlo assimilare o consumare o utilizzare e chiaramente il sistema immunitario è principe nel monitorare questi processi quindi chiaramente tutto quello che avviene a livello intestinale ha un impatto sul sistema immunitario quindi questo è un aspetto quindi la regolazione del sistema immunitario there there certain elements that can aggravate or augment the situation into a more destabilized status chiaro chiaramente chiaramente ci sono certi elementi che possono portare ad esacerbare certe condizioni e altre a ridurle E lo stesso vale, per esempio, per additivi che troviamo nei cibi, oppure per i detergenti, che possono irritare la parete intestinale e quindi aggravare la condizione. Allo stesso tempo una parete, o se vogliamo, sì, una parete intestinale ha due aspetti, due lati. Se, per esempio, il corpo si sposta verso un processo infiammatorio dall'interno. Quindi, per esempio, se la comunicazione nel sistema immunitario si va o si muove verso una condizione pro-infiammatoria. If the cytokines, as the messenger molecules, the cytokines, are in a completely disbalanced state, of course, then all these factors lead to a destabilization of the intestinal wall. Se, per esempio, le cytokine che inviano messaggi molecolari si squilibrano molto, chiaramente questo ha un impatto che aggrava le condizioni della parete intestinale. Now, for overshooting inflammatory reactions, parasites can also play a triggering role. Nell'esacerbare questi processi infiammatori, anche i parassiti, chiaramente, possono avere o svolgere un ruolo. And especially for the gastrointestinal system, there are quite a number of people that tend to process their emotions through that system. Based on an emotional situation, some people would shout, some people would maybe punch others. And there are those that actually eat the problem in themselves, into themselves. And so, all these factors, individually, can lead towards a combined picture of. E tutti questi fattori, individualmente, possono portare a un certo quadro, a un certo specifico quadro clinico. Now, those are leading some possible, exemplary causes why a person gets more and more destabilized. Questi sono stati quelli che ho citato, alcuni degli esempi di alcune delle cause che possono portare a questi squilibri. And so, if we keep that in mind, then it is important to see how is it possible, in which way, at which point, can I meet that person to really make a change. So, this is, this is a very central question. And this is why it is so helpful to work additionally with the S-Drive report, in looking at the situation and what the body responds. Now, I would like to look at the report of that patient together with you, and let's look at which different indicators are given. So, let's look at the report of this patient. It's just kindly, my wife just brought some water and bring some caffè, so it's good to continue. Ho ringraziato mia moglie che mi ha portato un caffè dell'acqua, quindi continuiamo. Okay, so, let's have a look at the report. I will put this on screen so you can see that. Adesso condivido lo schermo con il report, così potete leggerlo e guardarlo anche voi. Credo che sia sullo schermo e che tutti possiate vederlo. Allora, qui c'è il grafico a torta, come vedete, quello rotondo. e lì ci sono evidenziate le priorità. So, the top priority given is a sensitivity for electromagnetic frequencies. Marcus, we can only see half of the pie chart. Ebbene, qui potete vedere che il segmento che viene evidenziato è quello relativo alla sensibilità nei confronti delle interferenze, o la sensibilità nei confronti dei segnali o delle frequenze elettromagnetiche. Now, this is either a disposition, some people are very sensitive to that. Ora, questo rivela o una disposizione o sensibilità nei confronti di queste frequenze elettromagnetiche, per esempio. Or it is a sign of a possible elevated exposition. Oppure indica che c'è stata un'esposizione elevata. With, for example, a tower on top of the roof or next to the house? Può essere una torre di trasmissione che può essere posizionata, oppure un'antenna che può essere posizionata o sul tetto della casa, oppure un'antenna che si trova a fianco alla casa. Or a power line running next to the house? Oppure un pilone dell'energia elettrica vicino alla casa? Also, the sensitivity of the body towards these frequencies rise or is stronger, the lower the energy production in the mitochondria is. Più è elevata la sensibilità nei confronti di queste interferenze o queste frequenze elettromagnetiche, più si innalza la sensibilità a livello mitocondriale e quindi la carenza di energie a livello mitocondriale. So, if the mitochondria are working on a low level, automatically the body gets more susceptible to these frequencies. Se, per esempio, i mitocondrii lavorano a livello molto basso, chiaramente aumenta la sensibilità nei confronti di queste interferenze elettromagnetiche. Quindi questa è la priorità numero uno. Al secondo posto, come vedete sempre in questa tabella, ci sono gli acidi grassi. La terza priorità sono i minerali. E al quarto posto abbiamo invece l'inquinamento ambientale o le tossine ambientali, in questo caso metalli tossici. Allora, se osserviamo quindi adesso questa tabella, è chiaro che ciascuno di questi quattro fattori ha un impatto pro-infiammatorio. Più sono basse le frequenze energetiche, maggiore sarà lo stato di infiammazione. Se, per esempio, c'è in atto uno stato orfologistico, quindi di infiammazione, l'organismo chiederà un apporto di acidi grassi per compensare. E lo stesso vale per i minerali, quindi ci sarà un maggior fabbisogno, per esempio, di rame in quelle condizioni. E il rame non è solo importante per la regolazione immunitaria. Infatti, la maggior parte degli enzimi preposti a ridurre il prurito oppure l'histamina, appunto, sono basati o hanno bisogno del rame. And those two enzymes, the one is the, if you write that down, histamine, N-methyl transferase, and the other one is the diamine oxidase. Both are based on copper. E infatti, due, ne cito due di questi enzimi. Uno è l'histamina N-methyl transferase, e l'altro è la diamina oxidase. Entrambi questi due enzimi hanno bisogno del rame. L'histamina è il componente presente e primario in qualunque stato infiammatorio. E' chiaro che sono presenti anche altri messaggeri come la leucotrina, eccetera, però assolutamente l'histamina è prevalente ed è quasi sempre presente in uno stato infiammatorio. Perché se noi consideriamo i cinque sintomi cardinali di un'infiammazione, Il primo sintomo è quello dell'arrossamento. E' dovuto al fatto che c'è un aumento di flusso ematico in quella regione del corpo e quindi si produce istamina. Second one is calore. Il secondo è il calore. That is because of more blood flow leading towards a warmth. Chiaramente, ho dovuto sempre allo stesso fenomeno. C'è un apporto superiore di sangue alla regione e quindi porta calore. E il terzo sintomo è quello del gonfiore. That is because of histamine. Histamine increasing the inflow of water in that region, therefore leading to a swelling. E questo è dovuto all'histamina perché l'histamina che aumenta in quella regione fa aumentare l'umidità, quindi apporto di acqua, che porta al gonfiore. Chiedo scusa, forse sentite anche un po' di rumore. C'è il vento che si sta alzando. Yeah, my wife just brought some coffee so I can survive here. Mia moglie mi ha portato del caffè così mi permette di sopravvivere. Okay, so the pain also can be triggered through histamine or at least augmented. Anche il dolore in questo caso viene o avviato dall'histamina oppure fatto aumentare a causa dell'histamina. And in fact, actually, another sign of an inflammation could also be a pruritus, itching. E un altro dei sintomi è il prurito, chiaramente. Which is a direct effect of histamine. È un effetto diretto dell'histamina. So, histamine has a dramatic impact on any inflammatory process. Quindi l'histamina ha un impatto drammatico, drastico, su qualunque processo infiammatorio. Another mineral that dampens any form of allergic reaction is calcio. Un altro minerale che riduce appunto questo processo infiammatorio è il calcio. So, this is shown here as well. And there's another one here that's chromium. Infatti viene evidenziato e poi ce n'è un altro minerale che è il cromo. If there's a lack of chromium, then it's always a sign for impaired glucosis metabolism. E se c'è una carenza di cromo, questo indica anche un problema a livello dei metaboliti del glucosio. Perché per importare il glucosio nella cellula ci servono tre fattori. An adequate amount of insulin's receptors. Un quantitativo sufficiente di recettori insulinici. Which, that density is changed in diabetes type 2. Che questa densità chiaramente è modificata nel caso del diabete tipo 2. Then obviously you need insulin. E quindi chiaramente serve l'insulina in quei casi. And you need chromium present. E poi ci vuole la presenza del cromo. And through this, then, glucosis can be imported into the cell. E grazie a questo processo poi, finalmente, il glucosio può essere importato nella cellula. Ecco, perché tutto questo ha un ruolo molto importante. Now, looking at the fourth category, the environmental toxins, or here the toxic metals. Allora, andando alla quarta priorità qui elencata, quella dei metalli tossici. Qual è l'impatto di questi metalli tossici? They have a direct impact onto the intestinal barrier, meaning leading towards leaky gut syndrome. Ebbene, hanno un impatto diretto sulla barriera intestinale, che vuol dire che conducono all'intestino gocciolante. They trigger the blood-brain barrier, so therefore more toxin can enter the brain. E poi innestano, innescano, scusate, la barriera sangue-cervello, e quindi entra appunto nel cervello. They have a significant impact on the immune regulation. Hanno poi, altresì, un impatto sulla regolazione immunitaria. They have an effect on the mitochondrial energy production. Hanno un impatto, un effetto anche sulla produzione di energia mitocondriale. E poi hanno un effetto, un impatto anche sulle membrane cellulari. E questo ha un impatto anche sul equilibrio tra il sodio e il potassio all'interno della cellula. So, sodium is mentioned here as another metal. Infatti, qui vedete che viene citato il sodio nell'elenco di questi metalli. Now, typically, in the report, from what you heard of the case, it was said that this patient has to watch out to not eat this and not eat that. I think that we all agree to eat sensible and responsible is surely an additional factor for the person's well-being. That, of course, is sensible to watch out what to eat and in which way. E' logico, appunto, prestare attenzione alla dieta e come si mangia. But I think we also all agree that this extent of disease will not be influenced solely by changing the diet. Do you realize how many patients now will circle one, will make one loop after another, in the next person saying you're not supposed to eat this, and the next person saying you're not supposed to eat this, and the next person says you have to leave this away? Sorry, what do you mean by loop? A loop in terms of rounds on a ferry, you know? Ah, okay. Turning loops around, always the same. Okay. E' chiaro, ci sarebbero situazioni in cui qualcuno potrebbe dire, non devi fare questo, non devi mangiare questo, e si andrebbe come in un giro tondo attorno e attorno alla questione di cosa eliminare, cosa mangiare, cosa non mangiare. E poi magari dopo mesi, forse anche anni, di terapia oppure di analisi di questo tipo, non si arriva a aggiungere qual è l'alimento che può essere il colpevole di quella patologia, di quelle condizioni. E quindi questo tipo di selezione, di individuazione degli alimenti tollerati e non tollerati, richiede molto, anzi troppo tempo. The cause for this disbalance in the immune system is not leaving away specifics. Infatti, il livello grave di questo squilibrio del sistema immunitario appunto non può limitarsi a queste specifiche caratteristiche o elementi. The key is to re-regulate the immune system and to look at the actual causes and the actual triggering factors. Quindi la chiave è quello di portare alla regolazione del sistema immunitario e andare a scovare quelli che sono i fattori scatenanti, la causa. And if we look at the S-Drive report, this actually is the best depiction, I couldn't say it in any better words than this photo show. Ebbene, se osserviamo il report dell'S-Drive, questa è esattamente l'esemplificazione, è il modo migliore, non potrei trovarne uno migliore, per andare a seguire le tracce, quindi per cercare la causa. Vedete quanto è piccolo qui il segmento denominato alimenti? That does not mean that the food is not important, the body just wishes for other things that really help to solve the issue. Questo non vuol dire che la dieta e l'alimentazione non sia importante, ma semplicemente l'S-Drive ci sta comunicando che non è la priorità, non è il fattore scatenante, non è la causa primaria. Ci sono tantissimi altri fattori ed elementi che sono molto, molto più importanti. Questa persona sicuramente è già molto sensibile all'alimentazione, sta molto attento a cosa mangia, a cosa consuma, quindi le ragioni di questi squilibri non sono nell'alimentazione. Do you understand how the S-Drive report now helps to refocus on what you do? Quindi capite adesso come questo report dell'S-Drive ci permette di rifocalizzare la nostra attenzione e quindi indicarci i passi da compiere e la strada da percorrere? Chiaramente considereramo altri fattori che sono fondamentali o importanti per la sua salute. Allora, questi sono i quattro sistemi che hanno l'impatto maggiore sulle condizioni di salute di questo paziente. Il primo è il sistema surrenale. Il secondo è l'equilibrio microbico-intestinale. C'è uno squilibrio nella sintesi proteica. E la quarta causa è quella del metabolismo degli zuccheri, ma questo non ci sorprende perché avevamo già visto la presenza, cioè l'evidenziazione del cromo minerale. Quindi possiamo dire che l'argomento di cui possiamo parlare è che dobbiamo prenderci cura di questi quattro sistemi? Infatti, il report dell'S-Drive ci permette di mettere il dito proprio su quelli che sono gli ambiti prioritari o primari. Quindi a questo punto è logico individuare i fattori primari e inserirli nell'equazione. Allora, se consideriamo per esempio il sistema intestinale, quindi l'equilibrio microbico-intestinale, potrebbe aiutarlo, questo paziente, l'assimilare batteri? Per certi versi sì, ma purché continuiamo a darglieli? Certo, in certo senso sì, perché c'è l'infiammazione della parete intestinale e la fonte, la radice del fenomeno e quindi questo potrebbe essere di aiuto. Se vediamo che quindi c'è la priorità del sistema adrenergico, dobbiamo cercare di capire come influenzarlo. What, obviously, this young patient has such an enormous amount of stress due to the disease, that is also a secondary effect, not only a primary. Questo giovane paziente ha come conseguenza della sua condizione epatologica appunto uno stress così grande che chiaramente diventa lo stress non solo forse la fonte primaria, ma anche la fonte secondaria del suo malessere. So, as I described in our last week's seminar, it's important to look at the axis in between the corpus pineale in the brain and the suprarenal glands. Allora, come ho già detto la settimana scorsa, dobbiamo andare a trovare l'asse tra il corpus pineale e il sistema intestinale e il sistema adrenergico. Super-adrenergico. 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 Now, we have to treat the system as a cybernetic system, as a system with many different instances and many different regulative parts. Dobbiamo trattare il sistema come un sistema cibernetico, fatto da diversi componenti, diverse parti. The word cybernetic has two meanings in English and one of them is a philosophical, one meaning is has multifactorial. Appunto, uso il termine cibernetico nel senso e nell'accezione del multifattoriale. Nothing to do with robots. Chiaramente, nulla a che fare con la cibernetica o la robotica. Okay. So, obviously, we will look at the different indicators lower on in the categories. Quindi adesso andiamo a vedere gli altri indicatori. Vedremo dopo quelli che c'erano lì nella parte bassa della slide. Now, obviously, there is a disbalance in the immune system. Chiaramente c'è uno squilibrio nel sistema immunitario. La domanda è come possiamo influenzare positivamente questa situazione. Now, if we look at the different values in this specific table for the immune system, there is one singular factor which really sticks out. Allora, se consideriamo i vari fattori che interessano il sistema immunitario su questa tabella, ce n'è uno che emerge tra tutti. They all have the same color, but they have a different value assigned to them. Questi che sono stati messi in evidenza hanno lo stesso colore, però gli sono stati attribuiti dei valori diversi. And that is the toxic metals. E come vedete, il valore più alto è in corrispondenza dei metalli tossici. Shown with a value of 12 on the right side. Dove il valore è 12, questa è la seconda colonna da destra. Doubling the intensity of influence over the six in vitamins. E questo è il doppio come valore rispetto al 6, che è il valore più elevato dopo per quanto riguarda le vitamine. What's also interesting to see, just to look at just a draw a connection, is that vitamin B5 shows up in the vitamin section. E una cosa che mi pare opportuno evidenziare è che compare anche nella sezione vitamine, la vitamina B5 che viene evidenziata in verde. Which, together with tyrosine, is a direct positive influence on the corpus pineale. Chiaramente che insieme alla tyrosina ha un impatto sul corpus pineale. Se osserviamo quali sono i fattori che influenzano l'apparato intestinale. Then we have again the toxic metals as a seven, meaning a stronger influence than other categories. Ancora una volta, abbiamo i metalli tossici. I metalli tossici hanno il valore più elevato, sette. And just to round off the picture, the cardiovascular system is also interesting here to some degree. E per completare il quadro è di interesse anche il sistema cardiovascolare. Perché? Perché le ulcerazioni sul corpo, che abbiamo visto nelle immagini, hanno a che fare con la vascularizzazione. Ho parlato tantissime volte delle influenze, delle frequenze elettriche, elettromagnetiche sui mitocondri. Ma non solo sui mitocondri, l'impatto è sull'organismo, nel suo insieme. Allora, a questo punto sarebbe veramente molto interessante andare a scrutare, ad osservare l'ambiente in cui vive questo paziente. Per esempio, c'è un modem, un router, un wifi, in camera da letto dove dorme? Or a repeater. O un ripetitore? Oppure ci sono cavi o fili elettrici che corrono sotto il letto, sotto la testa del paziente, o vicino alla testa del paziente. Se, per esempio, c'è un interruttore che è lì sul comodino, a fianco alla sua testa. Per esempio, ci sono caricatori wireless, senza fili, che servono per caricare dispositivi elettrici e elettronici, che sono in vicinanza del suo letto dove dorme. Ci sono, per esempio, grossi schermi televisivi oppure elettronica laddove questo paziente trascorre il grosso della sua giornata. Is the person using, for example, bluetooth headsets a lot? Questa persona, per esempio, utilizza auricolari bluetooth, quindi senza filo. Oppure se attivo il bluetooth acceso sul cellulare smartphone che porta addosso in tasca. Questi sono soltanto esempi. E ovviamente è up to your creative way to look at the process and to look at the different factors for that person. Questi sono soltanto degli esempi. Sta a voi e alla vostra creatività andare alla ricerca di quali possono essere gli strumenti, dispositivi, quello che c'è attorno, che possono portare o interferire appunto come campo elettromagnetico. One good test for that is if people leave their normal living environment and go to somewhere like out on the countryside. Un test, una prova da fare potrebbe essere quella di invitare queste persone ad abbandonare il loro luogo abituale di dimora e magari trasferirsi per un certo periodo in campagna. If they have a more open mind or more energy, that's an interesting sign. Se queste persone si regassero in campagna in un luogo sterilizzato da tutte queste fonti elettromagnetiche e poi si manifesta una maggiore tranquillità, meno stress o anche semplicemente una maggiore apertura mentale. But it could also be the other way around, that they actually get are more tired and feel more fatigued. Oppure potrebbe essere esattamente il contrario, cioè che in quel caso allontanandosi dall'ambiente normale e andando in un luogo di campagna si possono manifestare per esempio sintomi di maggiore affaticamento. Perché questo indicherebbe una sorta di rimbalzo rispetto all'elevato stato di stress a cui erano assoggettati precedentemente. Anyway, a change in performance can be a good indicator of possible stress influences under the normal living conditions. Quindi un cambiamento di ambiente potrebbe essere un fattore molto importante da tenere in considerazione come indicatore di eventuali cambiamenti nello stato di stress o nelle condizioni del paziente. E poi il forno a microonde è sconsigliabile. Quindi un'altra domanda da porci è come si cucina il cibo questo paziente col microonde? Allora, tornando al report, vedete qui la pagina relativa alle vitamine, non c'è nessuna vitamina evidenziata con un colore. Questo non vuol dire che le vitamine non hanno un ruolo da svolgere, ma vuol dire semplicemente che non sono il settore su cui prestare l'attenzione. In questo modo il report ti aiuta a concentrare sui aspetti principali e in realtà a salvare l'argento anche a qualche modo, non dando molto a una volta. E il report infatti in questo senso c'è non soltanto di grande aiuto, ma ci fa anche risparmiare denari perché non ci fa spendere per fare indagini o portare prodotti che sono costosi. Now, obviously in this case, I would give a complex of different B vitamins anyway, at least to balance the nerve situation. Sicuramente somministrerei un complesso vitaminico B per aiutare il sistema nervoso. Ok, so let's continue on here. Minerals is in the top runner category. Quindi, adesso andiamo avanti. La categoria dei minerali, come vedete, è una delle categorie evidenziate. And we already went to the different minerals, but what I would like to point out is that it's important how to take them. Allora, ne abbiamo già parlato in parte dei minerali, ma quello che è importante adesso è come somministrarli. Ogni qualsiasi minerale di origine naturale è di gran lunga superiore ad un minerale artificiale. And if you use artificial ones, that's not bad, but you have to look which ones are best biomissable. Non è negativo necessariamente somministrare minerali artificiali, però è opportuno esaminare e tenere in considerazione la similabilità, quindi la biodisponibilità. If you take formulations with citrate or orotate, piccolinate and other examples, those are much better processable than just simple ones. Vi do un esempio. Se usate minerali che hanno come base il citrato, l'orotrato e il piccolotrato, ebbene, questi sono più facilmente assimilabili come minerali. Piccolinato. Piccolinato. Prima avevamo visto che gli acidi grassi erano tra le priorità. Possiamo quindi affermare che la patologia deriva dal fabbisogno o carenza di questi acidi grassi? Non necessariamente. All that is said here is that the body demands certain ones to better the situation. Non necessariamente. Quello che ci dice questa tabella è semplicemente che l'organismo ha bisogno di alcuni di questi per migliorare le condizioni. Or could we, for example, say, well, that person doesn't need any antioxidants? Oppure potremmo affermare, per esempio, qui c'è la tabella degli antiossidanti, non essendo nulla evidenziato a colore, Possiamo dire che questo paziente non ha bisogno di antiossidanti? That's not the statement and that's not what the report says. The report only says if you want to have the highest effectivity start in other fields. Il report non ci dice questo, assolutamente. Quello che ci dice questa tabella dove non c'è nulla di evidenziato, ci sta dicendo che questa non è una priorità, che non dobbiamo partire da qui, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione altrove. So, the amino acids, the amino acids, as such, are in the top categories of metabolic shortcomings? Abbiamo degli amino acidi qui evidenziati che sono, appunto, tra quelli di cui c'è un fabbisogno. So, let's look at those that are mentioned here most. Vediamo quelli che sono evidenziati qui con un contorno più scuro. Let me translate that properly. So, we have carnosine, which is important for the metabolic and energy processes. Allora, abbiamo la carnosine, che è importante per il processo energetico e metabolico. We have different factors that are relevant also for the protein synthesis. Altri fattori che sono importanti per la sintesi proteica. And we have arginine in here. E abbiamo anche l'arginina, vedete. Now, arginine is the basis for the relaxation factor to open vessels. Allora, l'arginina è importante per la base del processo di rilassamento dei vasi. E svolge un ruolo importante sia nel rilassare i vasi sanguigni sia anche contro lo stress ossidativo. So, it would be a sensible idea to give high value amino acids to that person in a way which is with a good resorption. Quindi, sarebbe una buona idea somministrare questo paziente amminoacidi di elevato valore. Per aiutare i processi di assorbimento. Perché questo sarebbe di aiuto proprio nei processi di riparazione. Ma da tutto quello che abbiamo visto finora in questo report, sia per il sistema immunitario, sia per il sistema intestinale, eccetera, abbiamo visto che i metalli tossici sono principe. Cioè, sono il fattore prioritario in assoluto. Quindi, è chiaro, chiarissimo che la cosa assolutamente prioritaria da fare per questo paziente è un processo di disintossicazione. che poi accenderà l'interruttore per avviare e far riprendere la regolazione del sistema immunitario. Allora, potremmo fare dei test genetici e considerare vari fattori che possono avere un impatto sull'intossicazione e quindi quali vie percorrere per un processo di disintossicazione. Potremmo anche andare a studiare sottofrazioni del sistema enzimatico. che, per esempio, si chiamano anche citocromo... Quindi avevo detto giusto, il citocromo P450. With 12 different subfractions which can be genetically altered. che presentano 12 sottofrazioni che possono essere modulati e modificati. We can look at different parts of the phase one, phase two detoxification elements. Possiamo considerare i vari alimenti per una detox fase uno, fase due. And many other factors. Intellectually, we can all do that. e tantissimi altri fattori. Quindi, dal punto di vista intellettivo, possiamo fare tutto questo che ho appena brevemente elencato. But you know what? That doesn't change the direct need for detoxification. Possiamo fare anche tutte queste cose, ma quello che non cambierebbe è il fabbisogno primario, prioritario di disintossicazione. So, why shove another thousand euros of laboratory costs onto the patient just to be intellectually satisfied? Perché quindi spendere altre mille o più di mille euro in diagnostica di laboratorio solo per soddisfare un po' di più il nostro intelletto? I'm not saying that's wrong. I'm only saying that start out, get the toxins out of the body, and then maybe months or years later, you can still do your diagnosis to see what's led to the situation. Io non dico questo. Io non dico che non sia una cosa buona magari da fare, ma dico semplicemente, non dico che sia sbagliato. Dico, perché partire da lì? Perché non passiamo direttamente a un processo di disintossicazione, bello e buono, e poi eventualmente dopo possiamo fare tutte le altre cose per andare a ricercare le fonti e le cause. Lo dico con una certa enfasi e passione perché la cosa assolutamente da fare è quello di far stare meglio il paziente. Questa è la priorità assoluta. E poi tutto il resto va bene lo stesso, ma prima il paziente deve stare meglio. I'm sorry to say that so passionately, but I just think it is so utterly important to really see how to get there fast. Chiedo scusa se mi esprimo con questo livello di passione, ma lo ritengo di importanza fondamentale. È fondamentale arrivare a far stare meglio il paziente quanto prima. Chiaramente eliminare i metalli tossici a questo punto diventa la leva più importante. Questi sono quindi i fattori primari per cambiare non solo lo stato di salute della persona, ma cambiare anche le sue performance. Quindi adesso ricapitoliamo. L'impatto primario è quello dei metalli tossici. La parete intestinale, attraverso la parete intestinale che c'è l'impatto maggiore sul sistema immunitario, quindi assolutamente la parete intestinale diventa prioritaria pure. Il sistema immunitario va riportato in equilibrio per le sue prestazioni quanto prima. Va migliorata la vascularizzazione al livello della cute, della pelle. Il report già ci ha dato i fattori primari che hanno impatto. Ora, se torniamo alla panoramica, alla pagina iniziale, e vediamo quali sono le raccomandazioni che vengono fornite, Abbiamo già un'indicazione chiara di quali sono i minerali che vanno somministrati. In questo caso la situazione è un po' diversa, certo potremmo fare un elenco di vitamine, di antiossidanti e quant'altro. Qui, invece, l'indicazione è quella di lavorare e intervenire sui sistemi di regolazione. Now, I will give you direct examples of elements that I would use here in this picture to influence the situation. Vi do adesso degli esempi di elementi che sceglierei io per migliorare questo quadro. Treating the gut wall and removing the toxins, I would use zeolites. Io userei la zeolite sia per il trattamento della parete intestinale, sia per la riduzione dell'impatto dei metalli tossici. Influencing the other factors in terms of the blood circulation in the skin. Per esempio, per gli altri fattori quali la vascularizzazione o la circolazione ematica a livello cutaneo. And improving the detoxification. E anche per migliorare il processo di disintossicazione. I would use the alpha lipoic acid. Userei l'acido alfa lipoico. In this case, as an infusion. In questo caso, somministrato per infusione. Which would be 600 mg once a week? 600 mg a settimana. And then, in combination with that infusion, would also then combine a high dose vitamin C infusion. While you're doing one, why not do two? Vitamin C as a general dampener to inflammatory reactions. I'm not saying that the person needs vitamin C. I'm saying I'm using vitamin C to dampen the situation and to deescalate. Non dico che il bisogno, non dico che questo paziente ha un fabbisogno di vitamina C. Io dico semplicemente voglio utilizzare la vitamina C per smorzare, ridurre, diminuire la condizione. Now, I would, typically you would use between 7,500 mg and 15,000 mg of vitamin C? Typicamente useremmo tra 7,500, 7,500. And what else? Milligrams. And between that and 15,000 mg. 15,000. Okay. Quindi tra una dose di vitamina C, tra 7,500 e 15,000 mg. Now, because the patient is very thin and not heavy, 7,500 would be absolutely sufficient. And then at the end of the infusion also shooting just a bolus of selenium just to improve the detoxification processes. E poi, alla fine di quell'infusione di vitamina C e l'altro prodotto, ci metterei anche un bolus di selenio. Questo per ancora dare una carica in più. Abbiamo detto prima che somministrando il rame riduciamo l'istamina. Io ho anche suggerito di somministrare il complesso vitaminico B. But if I say complex, I mean big time. Per via orale. Ma quando dico complesso di vitamina B intendo veramente tutto il complesso di vitamina B. which means B1, B2, B3, B5, B6, B7, B7, B9, B12, B12. And additionally, B15. E in più anche la vitamina B15. Which is pangamic acid. Che è l'acido pangamico. Which improves the oxygen utilization in the cell. Che migliora il metabolismo dell'ossigeno nella cellula. Now, with that together, I would also orally use the same. Inoltre, oltre a tutto questo, somministrei per via orale anche il same. Which is S-adenosylmethionine. Che è l'S-adenosylmethionine. Which you can refer, Giorgio carries a very good same as a product. Giorgio ha un prodotto molto buono, eccellente per quanto riguarda il same. And same is not only a methyl group donator, it also is a helper in decomposing histamina. Allora, non solo il same aiuta a decomporre la histamina, ma è anche da un contributo al metal group. Al gruppo metalico. Al gruppo metalico. As acetylcysteine or N-acetylcysteine. Quindi sottoforma di acetylcysteina. N-acetylcysteina. N-acetylcysteina. Why? Because one of the three compounds to build glutathione is cysteine. So it helps to elevate the glutathione level in the cells. Questo aiuta a potenziare il livello di glutathione nelle cellule. That doesn't only catch free radicals. It also helps to detoxify and it helps to reduce inflammatory reactions. Non soltanto cattura i radicali liberi, ma aiuta nel processo di disintossicazione. E nel catturare anche i radicali liberi. Because the immune system is so disbalanced, I would do what's called an immunogram. Anche un immunogramma, visto che il sistema immunitario è talmente squilibrato. Showing the different immune fractions and their activity, over activity or under activity. Questo ci permette di evidenziare le frazioni del sistema immunitario e illustrare, evidenziare le diverse attività che hanno. What is the CD4 fraction doing? What is the CD8 fraction doing? Infatti ci permette di vedere cosa succede alla frazione CD4, alla frazione CD8. How about the T regulatory cells? Oppure le cellule regolatrici T. Here in this case, the TH17 fraction will likely be very elevated. Per esempio, è molto probabile che in questo caso sarà molto elevata la frazione TH17. Which shows a chronic state. Che è indicatrice di uno stato cronico. Poi userei una terapia appropriata appunto e accostata a questa terapia per sempre aiutare e potenziare il sistema immunitario. Sensible is also to use a general anti-inflammatory component. Anche un componente anti-inflammatorio potrebbe essere logico da usare. In that case, actually, it is sensible to test out which substance is most effective in reducing inflammatory reactions. E a quel punto sarebbe opportuno un test per vedere qual è la sostanza più idonea per ridurre i meccanismi infiammatori. E se voi fate veramente una comparazione tra le sostanze, vi stupirete che forse alcune di queste sostanze naturali hanno prestazioni migliori rispetto al cortisone. Ora, questo test non viene fatto in molti laboratori. E ha un nome molto complicato, quello che vi sto per annunciare. Si chiama TNF-alpha. 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 Secretion. 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 Secretion is what? With a C or with a Ness? Secretion as an emission of substances. Secretion. 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 Okay, okay, okay. Quindi TNF-alpha secrezioni. Secretion. HEM test. HEM test. HEM is inhibition test. Quindi è un test che inibisce le secrezioni TNF-alpha. Yes, exactly. So, basically it tests how much substances reduce the secretion of TNF-alpha. Quindi misura quali sono le sostanze e di quanto inibiscono le secrezioni di TNF-alpha. And you expose different natural and non natural substances to see what has the most effectiveness for this person. E quindi questo permette, questo test permette di selezionare tra le varie sostanze per vedere quali sono più efficaci per questo specifico paziente. And there are elements, for example, curcumin, which is an extract from curcuma. Per esempio, ci sono altri elementi, come la curcumina, che è un estratto della curcuma. Or Bosvelia. La Bosvelia. Or it's incense. Che è l'incenso. Actually, it's a specific subgroup. It's Bosvelia Serrata Caterii. Si chiama... That's the same name. Bosvelia Serrata Caterii. Caterii. Yeah, that's a subgroup. È un sottogruppo della curcumina. And... No, no, not curcumina. That's Bosvelia. That's incense. Ah, Bosvelia dell'incenso. Bosvelia. Or... Different... I mean, we can't go into this because we can do this for hours, but there are certain substances which are highly anti-inflammatory and that you would use as an additional factor. Allora, se facessi l'elenco di tutte queste cose, chiaramente potremmo andare avanti per ore. Quello che sto dicendo è che ci sono delle sostanze che sono più efficaci appunto per intervenire e ridurre lo stato infiammatorio. Together with the fitting element for microimmunotherapy. Insieme agli elementi della terapia macrumine. Now, that's like a basic construction. And then it would have to be looked at the very individual factors. Questa è una costruzione basilare. E poi bisognerebbe andare da qui a fattori più soggettivi. Now, one thing I mentioned before I would like to mention again. Allora, ho parlato prima di una cosa che voglio adesso ripetere. se ci sono persone che in stati emotivi forti si consumano dentro. Se ci sono tipologie di persone che hanno la tendenza a preoccuparsi eccessivamente, quindi si fanno del male in questo senso. If people don't believe that they deserve to be healthy. Se per esempio, tra l'uno i pazienti o persone hanno convinzioni per cui ritengono di non meritare e stare in uno stato di salute e di non meritare la salute. Se una persona non è in grado di visualizzarsi sana. Abbiamo a che fare con dei freni, delle resistenze, dei blocchi al miglioramento. Questo è un fattore che ha un ruolo molto, molto importante nelle malattie autoimmuni. E questo può diventare, quindi, può essere una leva molto importante per modificare la regolazione del processo immunitario. Prima vi ho mostrato delle foto molto particolari, significative, sullo stato dell'acute di questo paziente. Ora, chiaramente cambiare i fattori di influenza e andare, se vogliamo, anche a monte della situazione potrebbe non cambiare l'aspetto fisico visivo, quello che vediamo. Ma sicuramente si può fare qualcosa per supportare il processo di riparazione. che vuol dire che non si eliminano le cicatrici, le piaghe e tutte, però sicuramente può contribuire a migliorarne lo stato e le condizioni. Quello che è fondamentale è cambiare il percorso della malattia, il corso della malattia in cui si trova il paziente. E se si capisce tutto quello che ci sta attorno, la sindrome dell'intestino gocciolante, a me non piace questa terminologia, non mi piace usare il termine intestino gocciolante, in inglese leaky gut syndrome. Ma, just to stick with that term, you understand, if that membrane, if that barrier gets, is not tight anymore. Però, si capisce, il termine sarà brutto, però ci fa capire che se quella membrana, appunto, ha dei fori, oppure non è più attenuta a stagno. Se decade la funzione di questa barriera, della membrana, Diventa abbastanza evidente che a quel punto si contaminano altre barriere e quindi si ammalano altre barriere. Meaning, if you want to use the same terminology, it would be a leaky blood brain barrier. Per esempio, potrebbe risultare in una barriera sangue-cervello che diventa gocciolante. Or a leaky vessel syndrome. Oppure una sindrome dei vasi gocciolanti. Ci sono infatti patologie autoimmuni che hanno un impatto sulle fibre, sulle varie fibre, sui vasi sanguigni e su altri tessuti. Come lo si vede, per esempio, nello stato dell'acute di un lupus. Now, given all of this, we need to hinge out this autoimmune process. Allora, considerate tutte queste cose, dobbiamo assolutamente spezzare questo meccanismo del processo autoimmune. This is the underlying process. Dobbiamo scardinarlo, perché questo è il processo sottostante che abbiamo riscontrato. Ebbene, io questo paziente non l'ho mai visto e non gli ho mai parlato. Ne parlo quindi soltanto in remoto, se vogliamo. È molto, molto importante andare ad esaminare quei fattori individuali che hanno determinato le condizioni epigenetiche per questo paziente. And this is why the S-Drive report is so important. Questa è la ragione del perché il report dell'S-Drive è di grande importanza. Quindi, per completare il quadro. Potete utilizzare ulteriori fattori per il benessere. Per esempio, usare bagni alcalinizzanti, non troppo forti, appunto per alcalinizzare sia l'organismo che l'acute. Oppure far vivere questa persona in un ambiente totalmente nuovo, rinnovato, anche per poche settimane. Somewhere where the sun shines. Or, it depends on the individual situation. Magari dove c'è il sole, ma dipende chiaramente, è soggettivo quello che sto dicendo. If that person, for example, needs to watch out with the food that he eats. For example, if fish is a good solution, go somewhere where you can eat fresh fish from the clean sea. These kind of things. Just to give a positive living impulse. Per esempio, dando un impulso di vita naturale. Magari portare la persona in un luogo di mare, dove c'è mare pulito, dove può mangiare pesce sano. Mettendo insieme tutti questi fattori. Questa è la maniera per cambiare il corso sottostante. Scusate, praticamente bombardando il sistema, appunto, con sostanze che possono supprimere i processi. negativi. In medical terms, that's the way to go. That's the gold standard therapy. I'm not saying it's wrong to do that. Scusate, forse ho detto una cosa sbagliata. Sono il traduttore, mi correggo. Bombardare il paziente con quelli che sono le processi tipiche della medicina potrebbe, non dico che sia totalmente sbagliato, ma potrebbe peggiorare la situazione. E' chiaro che queste forme di terapie talvolta si rendono necessarie, soprattutto in condizioni veramente molto gravi, se il paziente è sottoposto a incredibili sofferenze. Quindi io non dico mai, andiamo per via naturale, usiamo prodotti naturali, andiamo per la via naturale. Assolutamente, questo sarebbe ridicolo. Io non affermo questo. Now, which means I work in an interdisciplinary way. If cortisone is needed, if antibiotics are needed, whatever, fine. Se serve il cortisone, se serve l'antibiotico, va bene. As long as you keep in mind that that will not solve the issue. And by saying, oh, you shouldn't use that, and that's bad for you, and, you know, once you take the poisons, you can't do anything naturally, that's all nonsense. I'm sorry. Direi che non è opportuno usare questi farmaci perché sono dei veleni, perché fa male, questo è ridicolo. What I'm saying is, it's important to always use, to do it with a feeling for the situation. Quello che invece sto dicendo è che bisogna farlo sempre tenendo il polso della situazione. E usando un abbinamento di diversi fattori. What I pointed out today, what I pointed out today were those factors that probably have not been looked at or have been done yet. Io oggi ho voluto sottolineare, evidenziare quelli che sono i fattori che forse, fino ad ora, non sono stati considerati. I'm not saying I know things better or anything like that, and I'm not criticizing. I'm only telling my point of view and what I would do additionally. Non sto dicendo che io la so più lunga, oppure che quello che è stato fatto non è stato corretto o che è. Dico semplicemente che io ho questo punto di vista e ho espresso appunto la mia visione e il mio punto di vista. I think it is super important to give a person with such a degree of, with such a medical situation that is so extended, it's important to give a perspective and a positive out view. Quello che voglio dire e sottolineare è questo, una persona con caratteristiche di questo genere, come abbiamo visto, per questa patologia, la priorità numero uno è quello di dargli una prospettiva positiva, dargli l'idea che c'è una via d'uscita. By saying, these are following factors that have not been put into the equation yet. Per esempio, potremmo affermare, questi sono fattori che ancora magari non sono stati considerati nel quadro clinico. Per esempio, lo dico a modo di esempio, partire in questa conversazione, che vuol dire, per esempio, i metalli tossici sono dei fattori e sono un elemento che ha un contributo e dobbiamo assolutamente alleviarne l'effetto, piuttosto che invece dire, ok, partiamo col cortisone. Now, taking that picture together. When we work on different levels, in different compartments. We have a much more, a much stronger impact on the entire system. We will take out blockages out of the regulatory system in many different fields. E elimineremo i blocchi dai vari sistemi di regolazione nei diversi ambiti. And that way, a whole new degree of freedom opens in that regulative system of the patient. And I'm not saying that's a guarantee for success, but I have seen in so many cases dramatic changes, completely dramatic changes. Si sblocca quel sistema di regolazione. Ora, non voglio dire che questa sia una garanzia del successo, però ho visto in tantissimi, tantissimi casi che è questo approccio che spesso porta al successo. And dramatic, I mean positive. E quando dico drammatici, intendo drammaticamente positivi. Very different from what stands in the book. Cioè, totalmente diverso da quello che vediamo nel libro. Very different from the statistical outcome. E anche risultati, esiti molto diversi rispetto alle statistiche. Why? Because the individuals treated in their epigenetic situation. Perché? Perché il paziente lo stiamo trattando nel suo ambito specifico epigenetico. Okay, so today we did a very super deep evaluation of one case. Ebbene, oggi siamo andati veramente in profondità nell'esaminare questo caso, un caso. I hope that is okay with you, instead of skipping through different reports and skimming them, I went very deep into one now. Potevo fare altrimenti. Potevo per esempio esaminare ed illustrare più casi, diciamo, e magari sorvolare più superficialmente. Ho preferito questo approccio, quello dell'andare in profondità, esaminando a questi livelli di dettaglio come abbiamo fatto, per un solo caso. So, and I would, if that is okay with you, I would suggest that for today, because the time is already advanced, to postpone into a next session. E quindi se per voi va bene, la mia proposta è questa, visto che peraltro l'ora si è fatta tarda, direi di rinviare ad un'altra sessione eventuali altre valutazioni o altri casi. And I would like to propose, and Giorgio maybe could give a feedback on this, Tuesday the 5th of December, in two weeks, and then we can also give some more exemplary reports. Mi rivolgo adesso a Giorgio Terziani, se ci sta ascoltando. Propongo di rincontrarci il 5 dicembre, cioè tra due settimane, per quest'altra sessione. Ok, and here, let me look whether Giorgio is, let me just check about the date, because, I'm sorry, we haven't talked about the date yet, I'm obviously still in the, still in foreign territory here. Non abbiamo parlato precedentemente della data, quindi permettetemi un attimo di fare un controllo, vediamo quanto riguarda la data che ho proposto. Ok, so, to, I've just written the date. Perfect. Ok, confirmation. So, we will reconvene on Tuesday, December the 5th, at 20.30, half past eight. Ok, fine. So, we have, we have got that fixed. Perfect. Ok, so that's confirmed also from Giorgio's side. Ok, good. Ok, good.